E' un'altra parte. E' un pozzaschiavo per sempre. I padroni non se ne sono andati, vero? Adesso si chiama riconciliazione. Nessuno scoprirà niente se tieni chiusa la bocca. Quando ti arrestarono avevi questa. Tu l'hai conservata per 40 anni. Perché? Lei non ha niente da dire a queste famiglie. Noi combattevamo una guerra. La commissione l'ha uccisa dentro. Ha mistificato la sua fede. Ho ragione. Non può perdonare le bestie con cui si confronta ogni giorno, amico. Non chiamarmi amico! Forse sono solo un vecchio giarlatano. Un sognatore. Che cazzo è quello? Quello potrebbe essere la via d'uscita dal tuo inferno. Forza andiamo! Blomfeld. Non restare lì. Eravamo in uno squadrone della morte. Se quello canta, fotti anche me. Arcivescovo, venga a trovarmi. Cosa che lei vorrà non avere mai ascoltato. Nessun desiderio a cui aggrepparsi. Nessuna preghiera, nessuna supplica. Mai sottomettersi, mai cedere, non piegarsi mai. Venite avanti dai! Uccidere qualcuno non è mai politico. Uccidere qualcuno è personale. È sempre, sempre personale. Quando la sento parlare della morte di mia figlia, il mio cuore grida di ucciderla. E me lo chiede a gran voce. È il cuore di una madre. Mia figlia ci sta guardando dalla sua adesso. Io riesco a sentirlo. E io farò questo. Per amor suo. Facciamo sì che possa vederci passare una spugna sul passato. a 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 Grazie a tutti.